eccolo da venezia da roma venezia vedi da roma ecco adesso poi torni a venezia bentornato tutto bene tutto bene bene ho un impegno tra l'altro cosa devi fare per la ghost week devo presenziare al museo che c'è a venezia creature di gomma che tu hai visto bellissimo infatti sul volantino ci sei in foto sì anche se non ci stanno fisicamente però ormai mi sta spando facciamo una bella cosa l'idea avuta dal presidente max ciao presidente chiaramente esporre sono 39 anni del film 39 pezzi di ghostbuster in questo museo dall 8 al 10 quindi oggi torno a venezia con lo zaino che tu mi hai sapientemente sistemato aggiornato upgrade quello dell'asbro e andrò a sistemare i pezzi da domani alle 5 mi troverete un paio d'orette penso ora due ore e assieme anche ad altri amici ghostbuster e siamo lì se avete domande dubbi saremo a disposizione ma che bello quindi sarà indivisa in alto uniforme con zaino asbro pronto con batteria ricaricabile per 25 mila anni di efficienza quindi funziona siamo sicuri siamo sicuri facciamo una prova guarda tira da dietro la bellissima batteria facciamo vedere a questo punto accendi l'interruttore vediamo quant'è la carica perfetto poi qui sotto come sempre esatto e via in modalità stand by così qua sotto ho messo l'altra interruttore quando lo giri così togli lo stand by un tent poi chiaramente c'è il bellissimo fucile augello augello invecchiato tra l'altro facciamo notare questa bellissima cosa clippard vere si non è che ci abbiamo fatto tanto è clippard vere invecchiata non è quella tagliata da uggioni peccato era più bello questo qua in metallo e questo l'ho messo vero un po più invecchiato poi per il resto è tutto uguale quindi poche modifiche ma fondamentali evitare lo stand by e avere una batteria ricaricabile dentro perfetto e ci siamo riusciti e ci siamo riusciti e ora un genio un genio assoluto e ora ragazzi ci vediamo noi caffè ciao ciao